Cala il sipario sul piccolo teatro di Tirammu, nel cuore della calza a Palermo, ma con lui non possono essere di certo cancellati i ricordi di quanti hanno occupato uno di quei 52 posti da cui assistere a Riti e Conti. Non è bastata, a quanto pare, l'ondata di affetto e commozione dopo la morte improvvisa del suo fondatore, Vito Parrinello, e non è bastato il pubblico che ha affollato l'atrio per la rassegna estiva. Il teatro sospende le attività dopo l'ultimo appuntamento estivo, con tutta l'amarezza espressa da una lettera aperta di Elisa e Giovanni Parrinello, letta alla fine dell'ultimo spettacolo. Magari è vero che Palermo non ha bisogno di noi, dicono i due fratelli nella lettera. Innanzitutto non riusciamo a sostenere i costi. La nostra non è una guerra alla pubblica amministrazione, alla quale però chiediamo coerenza rispetto alle tante attestazioni di stima. Spetta all'amministrazione trasformare questo apprezzamento in sostegno. Abbiamo bisogno di capire se ci sono i presupposti per tenere aperto questo spazio nella capitale dei giovani e della cultura. Oggi questo luogo è diventato un tempio della cultura popolare siciliana e fucina delle nuove generazioni. E chissà per quanto tempo potrebbe dare questa speranza alla città. Lo dite voi, lo dice il Financial Times, lo dice il primo cittadino di Palermo e anche su Google c'è scritto. Purtroppo però questo non basta. Negli ultimi anni, pur di dare la giusta dignità agli artisti, ai dipendenti, alle migliaia di turisti che ogni giorno vengono a farci visita e alle nuove generazioni, utilizziamo le risorse economiche di famiglia. Anche se questa è stata una nostra scelta, va bene fino ad un certo punto. Quando nostro padre sedeva per ore ad aspettare il politico di turno, capitava pure che dopo ore di attesa neanche lo ricevessero. Sai che rabbia! Al diavolo vado con i ragazzi della Lapa Teatro a fare cappello. Loro guadagnano qualcosa e io sono il nonno più felice del mondo. Altro che politica, affitto, tasse ed F24. Ci diceva sempre, io volevo solo suonare la chitarra e sentire vostra madre cantare. E ancora, al nostro pubblico, agli amici, ai tanti artisti, agli assistenti, ai collaboratori, agli allievi, alle nostre famiglie, chiediamo di starci vicino ora più che mai. Tenere alta la tensione e l'attenzione sulle nostre vicende. Sarà il nostro dovere quello di tenervi informati con tutti i mezzi possibili. Il sindaco Leluco Orlando e l'assessore alla cultura Andrea Cusumano hanno incontrato nelle ultime settimane i responsabili del teatro di Tirammu, con i quali hanno concordato un percorso che porti alla disponibilità di alcuni spazi presso i cantieri culturali alla Zisa, nei quali possa proseguire l'importante attività culturale svolta dal teatro, che già in passato ha svolto alcune delle proprie iniziative con il supporto dell'amministrazione comunale di Palermo. Il nostro impegno è massimo, dichiarano Orlando e Cusumano, per onorare al meglio la memoria di quel grande artista che è stato il suo fondatore, Vito Parrinello, e per permettere al contempo che il teatro di Tirammu prosegua la sua attività di veicolo e promozione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane.